Riparte con un nuovo ciclo di proiezioni, Cine Campus, la rassegna cinematografica organizzata dall'Università e Campus in collaborazione con Act Multimedia, Scuola di Cinema di Cinecittà, e mirata a mettere in luce le pellicole italiane maggiormente significative degli ultimi anni. Il film che ha aperto il nuovo ciclo è stato Qualche Nuvola, opera prima del regista Saverio Di Biaggio, che sceglie come ambientazione la borgata romana e come tematica la contrapposizione tra ceti sociali. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo ciclo di incontri? È un ciclo di incontri incentrato nel sociale, sul sociale, sulle problematiche che possono emergere sia macro territorio sia micro territorio. Quello di stasera è un film che lega una borgata romana al centro storico e che analizza, fa riflettere sulla possibilità di convivenza di due universi così diversi. È un film molto interessante perché la borgata non è trattata come si fa di solito, come episodi di piccro criminalità, oppure come la Roma Cacciarona che fa ridere un po' battutara, ma è trattata con delicatezza. C'è una vita e c'è una profondità incredibile nella borgata che appunto si vive in questo film e che è quella del quadraro. È un'iniziativa molto interessante perché hanno una bella sede qui al centro di Roma, ma poi i film scelti sono molto interessanti. Sono giornalista corrispondente in Italia alla stampa estera e scrivo anche di cinema. Faccio parte della giuria per il nostro premio Globo d'Oro per il cinema e faccio tutte e due. Com'è nata l'idea di questo film? L'idea del film è nata tanti anni fa, è nata nel 2004, ho lavorato per tanti anni come aiuto regista e stavo lavorando su un film, non mi ricordo quale, e mi sono chiesto se era il caso di raccontare i proletari come li conosco io, così come in quel periodo Muccino raccontava la borghesia molto bene. Il film racconta la storia di Diego, un giovane muratore nato in una borgata romana che ha sempre limitato i suoi rapporti e i suoi contatti all'ambiente di nascita, fidanzato con Cinzia, la tipica ragazza della porta accanto. All'improvviso, dopo una vita condotta senza grandi scossoni né cambiamenti di sorta, Diego si trova costretto a entrare in contatto con un altro mondo, quando l'impresa idile per cui lavora inizia la ristrutturazione di un appartamento al centro storico. Da qui l'incontro con Viola, ragazza appartenente all'alta borghesia romana, che lo porta a scoprire un mondo nuovo fatto di conoscenza e di stimoli creativi. I personaggi sono tutti mutuati da amici, conoscenti, anche esperienze di vita personali, ma la storia è tutta completamente inventata. È anche un po' pretestuosa, serviva per far nascere un conflitto sociale, ma niente di più, non c'è nulla di vero. Tu interpreti Diego, il protagonista, come è stato appunto approcciare a questo personaggio o quali sono i punti comuni che hai trovato con lui? Devo dire che la cosa più bella del personaggio e la sfida per me è stata affrontare un personaggio che per tutto l'arco della storia si mantiene un personaggio molto trattenuto nelle emozioni e non ha mai un vero e proprio momento di sfogo. È un personaggio molto imploso e quindi l'ho trovato molto affascinante perché credo che nella vita, diversamente da come accade molte volte al cinema, le persone non riescano poi a tirare fuori le emozioni e i propri sentimenti. Quindi abbiamo fatto un lavoro con Saverio, con il regista, molto per lavorare nei silenzi e nelle riflessioni di questo personaggio. È stato bellissimo, è stato il mio primo film per il cinema, ormai è girato quasi due anni fa, quindi si parla di parecchio tempo fa. Cinzia è una ragazza di Borgata, io sono cresciuta non proprio in periferia, però conosco bene quei luoghi, da Romana, quale sono. È una ragazza molto volitiva che riesce a ottenere tutto quello che desidera nonostante le avversità che purtroppo segneranno la sua vita prematrimoniale, visto che il suo fidanzato, il futuro sposo, la tradisce con una bella francese. Quindi ci sono alcune cose in cui mi riconosco, per esempio l'essere piena di energia e di vitalità. Sicuramente non mi terrei un uomo che mi tradisce, io no. Grazie. 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 Grazie.